All'Università d'Annunzio tornano i Career Day, due giornate interamente dedicate all'incontro tra aziende e giovani talenti universitari. Si comincia dal campus di Chieti per proseguire domani a Pescara. L'evento è organizzato dal settore Career Service and Placement dell'Università d'Annunzio di Chieti-Pescara, diretto da Annalisa Michetti in collaborazione con MAU. È un'opportunità che abbiamo voluto dare agli studenti e ai laureati di creare un ponte con le aziende del territorio. di mettere piede nelle aziende tramite tirocini formativi che sono gestiti dalle linee guida regionali. Lo facciamo tramite una piattaforma, si chiama Piattaforma Start, che conta già 13.000 studenti e laureati e anche circa 1.000 aziende. Quindi un interscambio tra le aziende che possono cercare la persona di riferimento, quindi di cui necessitano, ma anche lo studente che autonomamente può cercare l'azienda presso la quale fare domanda per un tirocinio extracurricolare o anche per una eventuale assunzione. Un vero e proprio interscambio dove gli studenti diventano parte attiva come anche lo sono le aziende. L'obiettivo dei Career Day dell'Ateneo D'Annunziano è dunque quello di offrire agli studenti l'opportunità di conoscere da vicino le diverse realtà imprenditoriali sul territorio e alle aziende di entrare in contatto con i lavoratori di domani, come spiega il professor Davide Quaglione, delegato del Rettore alle attività di placement dell'Ateneo. Le esigenze di questa nuova generazione sono diverse rispetto a quelle delle vecchie generazioni perché in questo momento i ragazzi hanno accesso a una quantità di informazione incredibile, a strutture che sono molto più sofisticate e molto più pronte ad ospitarli rispetto a quanto non accadeva precedentemente. L'elemento che forse a loro manca di più in questo momento è la sensazione di sentirsi utili al tessuto produttivo e questo un po' li fa spesare perché sono molto preparati però fanno fatica a capire che tipo di collocazione possono avere all'interno delle imprese. Questi momenti di incontro sono estremamente importanti perché abituano i ragazzi a pensare non più di dare una risposta giusta a una domanda ma di fare un qualcosa di utile in un contesto molto più complesso che quello lavorativo in cui non ci sono solo nozioni tecniche ma ci sono anche aspetti umani, relazionali, rispetto delle persone e delle regole. Paolo Esposito, direttore generale dell'Università d'Annunzio di Chieti Pescara, un consiglio alle aziende e ai ragazzi? Ai ragazzi di farsi trovare preparati, affamati come si diceva una volta e di non prefigurare quello che verrà ma di buttarsi con molto entusiasmo anche affrontando sacrifici necessari all'inizio. Alle aziende dico guardate anche facoltà che non siano prettamente tecniche. Nella mia vita di manager ho avuto l'onore di lavorare con persone di altissimo livello alla guida di aziende italiane multinazionali che venivano anche da facoltà non tecniche che l'Università non è più come una volta 30 anni fa chiusa verso il mondo delle aziende.